Siamo riusciti a far passare in aula degli emendamenti importanti, sono quelli ad esempio di prevedere un passaggio del piano energetico per le isole minori, quindi di arrivare a dare un peso importante alle rinnovabili per queste isole minori. Abbiamo ottenuto sui contatori che ci sia un ente terzo che possa verificare i contatori, quindi che non sia in mano oggi allo stesso distributore, e anche la mappatura sul digital divide. Siamo riusciti a portare a casa altri emendamenti dopo quelli ottenuti in commissione, noi stiamo sempre lavorando sul pezzo e cercheremo ancora qualcosina magari lunedì.